buongiorno a tutti questo episodio si chiama una foto nel parco buongiorno a tutti ok è arrivato il messaggio di chiara e qua sotto mettiamoci le scarpe andiamo giù inizia la giornata buongiorno lei è chiara e oggi ci divertiamo a fare foto ciao io ho risparmiato il viaggio oggi perché ci sono chiacchierato un po' ma noi siamo arrivati e adesso tocca fare le foto e nella fattispecie per me congelare ci si prepara e tra poco iniziamo se con la luce viene così motopart con style minchia dici che è meglio lì? proviamo proviamo stavendo in mente no per andare con il cappuccio su su girato di pianto che c'è un po' molle di pianto ok si è appoggiato su quella con il malà ok cambio d'abito adesso con un grande angolo facciamo delle foto che prendono un po' tutto questo fantastico ambiente chiara è già in posizione io sono già vestito pressoché congelato ma conservato bene e si va avanti allora ce l'abbiamo fatta non senza danni perché ho sbattuto la testa nel vestirmi mi chiede che male lei se la ride la bastarda sta ridendo guarda qua come se la ride si ha aperto la testa cazzo porca troia che dolore comunque ce l'abbiamo fatta siamo a quota 504 foto 504 foto per cui se ne verranno fuori cosa una ventina una ventina buone ciao a tutti passi e chiudo saluta ciao ragazzi grazie di aver guardato il video per favore cliccate su subscribe il bottoncino che vedete qui in basso rosso così vi iscrivete al canale e sarete sempre informati in tempo reale dei nuovi video che metterò online vi aspetto tutti alla prossima ciao ciao